Allora, manca poco al grande evento al Dubai Cafè di Roma, che sta al confine tra Roma e Guidonia, praticamente a sette cammini, a un paio di chilometri ma neanche dal confine tra il comune di Guidonia e il comune di Roma, quindi in certo senso è anche di Guidonia, io sono residente di Guidonia, quindi, insomma, lo sento anche mio questo Dubai Cafè perché sta nella zona comunque molto vicina a Guidonia. E la musilosofi che sarei io, la mia ditta, che si occupa non solo di musica ma anche, avete notato, di portali e di informazioni in generale, e si occupa anche e soprattutto di YouTube. Essendo partner di YouTube, il venerdì prossimo ci sarà un grande evento al Dubai e manderemo in diretta questo evento, proprio su YouTube, su YouTube Live. Questo è il logo di YouTube, questo è il logo della musilosofi, questa a sinistra, partner di YouTube, ormai da un annetto. E niente, quindi in diretta su YouTube Live possiamo assistere al concerto della Gael, di Cecilia Gael. Cecilia Gael, una mulatta riccia della Costa Rica, che si esibisce al Dubai Cafè, fatto un sopralluogo oggi numericcio, mancano un paio di giorni, e per appunto studiare un po' come piazzare le videocamere e il computer e quello che necessita per mandare al meglio la diretta. Che appunto, dicevo, sarà fatta non dentro, diciamo, nel concerto, ma nel cortile dinanzi al bellissimo locale Dubai Cafè. E' bello perché passate sulla Tiburtina, oddio, questo passate sulla Tiburtina suona male, per altri modelli, comunque, passate la Tiburtina e dopo la Titanius, dopo tutte quelle lucciole che si trovano sulla Titanius, potete trovare subito sulla sinistra, dopo Sette Cammini, questo palazzo rosso, illuminato, colorato, con le luci che scorrono, grande parcheggio, un bel terrazzo fuori, molto moderno, dentro ci sono tutti i ristoranti, pasticceria, gelateria, tabaccaio, un bellissimo, un bellissimo locale. Non perché sono amico di uno dei proprietari, Fabiano Varelli, che saluto, e che ho visto poco fa, ma perché veramente meglio, ecco, veramente. Se ci andate lì, non potete non rimanere colpiti dalla bellezza di questo locale. e che ha avuto l'inaugurazione qualche mese fa, già è un bel punto di riferimento della zona, parecchi clienti affezionali vanno lì, anche famiglie, ho visto, spesso vanno, anche chi di passaggio a prendere semplicemente un caffettino, chi va al ristorante, chi va la sera, a passare la serata. Poi ci sono ecco degli eventi, ma non eventi, insomma, spiccioletti, ma eventi di un certo tipo. Se si dà che è, è quella del tipi tipitero, no? Oppure del Pampa, na 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 su Pampa, ta na 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 su Pampa, nei villaggi di tutta Italia, non solo, ci martellano, comunque sono veramente belle le sue canzoni, ci saranno anche dei balletti, mi ha detto Fabiano, un bel palco grande lì, ingresso gratuito, chi vuole prenotare la cena, comunque bene lo faccia subito, in questo istante, perché mancano 48 ore, praticamente, e rischia che il tavolo non lo trova, quindi prima prenota, se fa ancora in tempo, e prima può scegliere la postazione migliore, anche per vedere il balletto o lo spettacolo. Il concerto inizierà intorno a nove e mezza, dieci, dieci e un quarto, ma non fate tardi, se no vi perdete l'inizio, e quindi, ricapitoliamo un'altra volta, rimanete qui, vedete su questo canale, o sui portali in cui sarà inserito appunto la diretta, per assistere alla diretta dell'evento su YouTube, eccoci qua, andrò vestito con questa maglietta, anche se bisogna che ne faccio stampare una per l'inverno, perché questa è estiva, andiamo un attimo, e quindi vi aspetto tutti, in modo che potete vederli in diretta, questo bel concerto, e commentare con la chat annessa, ciao a tutti.